Volevamo capire, Angela Bruno, quella dipendente alla quale ha rivolto delle battute un po' giudicate pesanti, ha chiesto ieri le sue pubbliche scuse. Guardi, non è vero che le battute erano pesanti, io ho detto una cosa che il pubblico ha interpretato come una spiritosagine, poi la seconda volta, visto che il pubblico si divertiva, Non c'era malizia quello che ha detto. Non nella prima volta, perché mi ha presentato un contratto che prevedeva diverse visite nella casa del sottoscrittore, perché l'azienda offriva l'elettricità e poi il gas e poi una bicicletta elettrica e gli dice ma quante volte viene a casa mia? E quindi io l'ho detto in maniera assolutamente non maliziosa, poi il pubblico ha sorriso, lei ha sorriso, è venuto fuori una malizia, però che ha fatto tutti divertire, segnatamente ha fatto divertire lei, che mi ha chiesto un autogro, dopodiché evidentemente si è lasciata influenzare dai soliti sepolcri imbiancati, da questi moralisti da due lire e ha cambiato parere. Ma perché avrebbe dovuto farsi influenzare da loro? Perché non avrebbe dovuto? Perché siccome prima era divertitissima, mi ha chiesto più volte di essere fotografata, non c'era nulla di nulla che potesse pensare. No, lei ha detto che in quella situazione le è sembrata la cosa più educata a reagire in quel modo, ha detto testualmente. Ha cambiato parere perché invece era divertita. Non gliele fa le scuse? Io le faccio, non ho nessuna signorina, tante scuse ma non legga più. La Repubblica, l'Unità e tutti gli altri giornali consimili. Ma è quello, lei si è convinta di essere stata guardata nel posteriore? Sì, perché ha guardato, ha letto gli articoli, li ho chiamati e, ripeto quella definizione, i sepolcri imbiancati, questi moralisti da strapazzo. Lei l'ha fatta proprio girare, lei ha guardato il culo però. Ma era bellissima, scusi, erano tutti contenti, lei era contenta. Ma lei è un uomo politico? Perché secondo voi prendere la mano in una situazione di grande simpatia e divertimento. Ma non per lei probabilmente, non lei Berlusconi, lei la signorina. Ma la signora era felicissima, era felicissima di ricevere l'applauso e l'apprezzamento di tutto il pubblico. Lei non c'era, io c'ero, quindi vinco io. Ecco, scuse fatte.